Arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, due 19 anni, uno del posto e l'altro di Belpasso, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, intorno alle 20.30, nel corso di un'attività di controllo e di perlustrazione del territorio, l'equipaggio della radiomobile ha notato due giovani lungo via della palestra a bordo di uno scooter. I giovani, accortisi della presenza dei militari, hanno tentato di darsi alla fuga, addirittura anche impegnando il marciapiede con grave pericolo per i pedoni. I militari dell'arma sono riusciti prontamente a bloccarli, effettuando immediatamente una perquisizione. Sullo scooter è stata rinvenuta una busta contenente 84 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto. Nella tasca dei pantaloni di uno dei due è trovata una somma pari a 330 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio di droga. Il conducente dello scooter è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida senza patente con recidiva nel biennio.